Un anniversario importante oggi per la Guardia di Finanza che compie 250 anni, occasione per ribadire tutte le attività e risultati operativi del corpo che all'Aquila in particolare può contare anche sulla scuola che forma lievi e alte professionalità. 8.541 interventi e aspettivi effettuati, 4.252 indagini per contrastare gli illeciti e le infiltrazioni della criminalità nell'economia, 215 gli evasori totali scovati, 924 lavoratori nero irregolari, i soggetti denunciati sono stati 438, sequestrati beni, profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per oltre 50 milioni. I 141 interventi in materia di accisi hanno permesso di sequestrare molti prodotti energetici e significativi controlli doganali, intensa l'attività di contrabbando contro i tabacchi lavorati esteri, 72 controlli sul gioco illegale, controlli importanti poi la maggior parte dell'attività che si è concentrata sui fondi del PNRR, sul super bonus, sulle risorse dell'Unione Europea e sul fronte della spesa pubblica, interventi numerosi per il reddito di cittadinanza, contributi indebitamente percepiti per oltre 68 milioni, 601 indagini in tema di spesa pubblica con 715 denunce, accertamento di danni erariali per oltre 15 milioni, in tema di appalti monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione di opere e servizi per oltre 182 milioni, in Abruzzo tanta attenzione per la prevenzione e repressione di condotti illeciti legate alla ricostruzione pubblica e privata, contributi illeciti percepiti per oltre 3 milioni, danni erariali per quasi 3 milioni, con proposte di sequestro di oltre 5 milioni, 8 le denunce, in materia di riciclaggio e antiriciclaggio tanti gli interventi, anche in operazioni attinenti al terrorismo, per usure e estorsione 54 i denunciati, nel contrasto al crimine organizzato 20 le indagini portate avanti, 119 denunce, in applicazione poi della normativa antimafia sottoposta ad accertamenti 246 soggetti, con sequestre e confische per quasi un milione, importante l'attività interna di sequestro di stupefacenti, come sempre da sottolineare l'intensa attività di pattugliamento in mare, ma anche il soccorso prestato in montagna, infine l'attenzione al tema dei rifiuti, oltre alle emissioni estere. Oltre alla tradizionale attività che noi conduciamo nel settore delle entrate, quindi a contrasto dell'evasione e delle frotte fiscali, abbiamo incrementato anche l'attività a contrasto delle irregolarità, degli abusi e delle memorizzazioni in campo della spesa pubblica. In questo settore ovviamente una parte importantissima hanno attirato la nostra attenzione e le risorse del PNRR.